Ben ritrovato Marco. Allora ci siamo ripromessi nella puntata scorsa che avremmo illustrato alcuni temi legati alla mobilità partendo dalle nostre attività. Tra queste attività il trasporto su gomma vanta numeri da capogiro. Oggi se sei d'accordo li vedrei insieme. Tra l'altro il trasporto pubblico su gomma è un pezzo importante del TPL, resta imprescindibile per collegare territori, comunità anche molto lontani tra loro. Ma come cambia la domanda di mobilità secondo te? Allora quello che è accaduto negli ultimi anni pone esattamente a questo tema. Nessuno ha la sfera di cristallo però ormai abbiamo dei dati che ci consentono di fare alcune considerazioni. Allora sicuramente uno dei primi dati, uno dei primi elementi è il fatto che la mobilità cosiddetta sistematica del pendolarismo vero e proprio dei commuter si sta progressivamente riducendo o comunque sta cambiando forma proprio perché c'è un'organizzazione del lavoro differente che porta le persone a spostarsi in maniera differente. Poi sicuramente c'è un tema che riguarda il rapporto tra i mezzi collettivi fra cui il trasporto pubblico su gomma è molto importante e quelli che sono ovviamente altre modalità di trasporto. Qui è chiaro che c'è il recupero da fare rispetto a quanto era, per com'era strutturata la domanda nel 2019 e al momento diciamo che il mezzo collettivo su gomma in particolare deve sicuramente recuperare in termini di numero di passeggeri. Dall'altra parte quello che ossistiamo è che comunque le persone hanno voglia di muoversi e per cui c'è un significativo incremento in termini di mobilità diciamo legata al tempo libero, al leisure, è una domanda occasionale e in particolare nei weekend questo si vede molto bene. La sfida per aziende come la nostra e per aziende come la nostra è sicuramente quella di capire come si può riarticolare, ripensare l'offerta per rispondere meglio a questo tipo di domanda perché appunto c'è un tema di domanda diversa di equilibrio fra vita privata, vita lavorativa, presenza nei luoghi di lavoro piuttosto che invece il lavoro da altri luoghi, c'è un tema di tempo libero molto molto rilevante e ci sono poi delle domande specifiche, facciamo riferimento a una che è quella della salute e quindi da una parte tutto quello che riguarda diciamo il benessere, dall'altra parte tutto quello che riguarda i servizi sanitari. Ora è chiaro che per poter rispondere a una domanda che si articola in questo modo sempre più complesso, sempre meno diciamo regolare e con delle specifiche esigenze alle quali rispondere va cambiato anche il concetto di mobilità. Quando parliamo di trasporto pubblico su gomma, trasporto collettivo è chiaro che il tema è che normalmente questo servizio è organizzato per linee e per orari, deve rimanere questa struttura evidentemente ma la sfida è quella di capire come si riesce a riarticolare questo servizio, rendolo più flessibile, rendolo più corrisponente alla domanda e come integrarlo con quelli che sono altri mezzi di trasporto per far sì che la connessione effettivamente da A a B avvenga in maniera più efficace possibile. Allora torniamo un attimo alla domanda, c'è uno scenario che appunto hai raccontato molto bene essere in evoluzione, c'è anche un fabbisogno specifico di questo comparto che pochi conoscono e poi ci sono dei modelli prevalenti. Questo mercato com'è oggi? Ma allora il settore intanto appunto fa i conti con questa domanda che per il momento si è ridotta e dall'altra parte che ha più o meno cambiato forma e si sta ancora cercando di capire effettivamente quale sarà diciamo l'assetto strutturale nuovo. Uno dei temi che il settore ha sempre avuto è quello delle risorse perché come noto questi sono servizi pubblici, servizio pubblico vuol dire che c'è un regolatore che ritiene di dover garantire certe connessioni anche quando queste connessioni non hanno diciamo così un proprio equilibrio di natura commerciale ed economico finanziaria. Quindi c'è un tema di risorse, di risorse pubbliche che si combina ovviamente con la decisione politica di decidere quanto far pagare effettivamente all'utilizzatore. Ora è chiaro che da questo punto di vista il tema delle risorse di come spenderle diventa molto rilevante in un contesto dove le risorse diciamo sono sempre meno disponibili e la domanda come dicevo prima si articola diversamente e richiede risposte anche più specialistiche. Dentro questo tema c'è il tema dei mezzi della flotta e qui si apre diciamo un fronte molto rilevante che purtroppo ha emesso ricamente diciamo condizioni in qualche modo il settore che è l'età media della flotta e accompagnato all'età media ovviamente il tipo di tecnologia che muove queste flotte perché ovviamente noi parliamo oggi di un parco mezzi degli autobus che è sostanzialmente a gasolio. Ecco e c'è un tema di età media, l'Italia rispetto al benchmark europeo ha un'età media superiore di 3-4 anni, dai 7 agli 11 anni e questo è un tema perché bisogna rinnovare, bisogna abbassare l'età media ma nell'abbassare l'età media bisogna cambiare anche vettore energetico e bisogna cambiare anche diciamo tecnologia che viene utilizzata. Questo richiede una grossa iniezione di investimenti, richiede anche un'innovazione, un upgrade di quelle che sono le competenze delle aziende che devono gestire mezzi che evidentemente sono diversi, quindi la sfida è molto molto rilevante. Dall'altra parte c'è il tema del come vengono assegnati i servizi perché la normativa europea e italiana prevedono il fatto che un'azienda faccia i servizi in un certo territorio a valle di quello che si chiama la concorrenza per il mercato, cioè non una pluralità di attori tipica dei servizi commerciali ma invece una gara che viene fatta per identificare per un certo periodo, per un certo lasso temporale, un operatore. Ora qui il tema delle gare è complesso anch'esso perché rispetto a quello che descriviamo prima anche il regolatore deve cambiare approccio rispetto alle gare e poi gli ultimi tre anni hanno condizionato fortemente questo processo. L'ipotesi era che ci dovrebbero già essere le gare perché sono scaduti i contratti in essere in Lombardia come in altre regioni. È chiaro che Covid, tutto quello che ha accaduto successivamente, il costo di energia ha fermato questo processo, il regolatore ha definito un ulteriore periodo in cui continuano ad esistere gli attuali contratti ma il tema evidentemente si pone. Ma il tema non è soltanto a riaprire alle gare ma il tema è anche che tipo di gare fare e da questo punto di vista il nostro gruppo in Lombardia è molto interessato alla riapertura di questo percorso, di questo processo perché noi vogliamo crescere per poter offrire il servizio che abbiamo in mente come gruppo nel suo complesso, la nostra presenza nella gomma deve sicuramente crescere. Ci sono altre questioni che riguardano il settore, ce n'è una in particolare perché abbiamo, ho detto prima che c'è il tema dell'età media della flotta che deve essere svecchiata ma deve cambiare diciamo come mix in termini di vettore energetico e questo appunto è un elemento molto forte e qui c'è un tema di finanziamento pubblico da accompagnarsi a quello che le aziende possono evidentemente mettere in campo. Dall'altra parte c'è un tema molto rilevante che riguarda non solo questo settore ma che questo settore sta diventando critico che è quello degli autisti cioè diciamo l'insieme del mondo industriale, del mondo industriale diciamo di natura tecnica e tecnologica ha evidenziato negli ultimi anni che c'è un fortissimo mismatch fra domande e offerte. Mancano persone per svolgere una serie di funzioni di natura tecnico operativa. Il gruppo fa parte di questo progetto che si chiama Distretto Italia che è stato lanciato proprio per andare a provare a rispondere nel breve e nel medio lungo a questo tipo di esigenze. Nel settore mancano gli autisti, qui è un tema proprio di attrattività di quella che è la professione dell'autista perché oggi fare l'autista è un mestiere sicuramente usurante, sicuramente stressante perché si viaggia nel traffico in certe condizioni e dall'altra parte è un'attività che in termini di pacchetto complessivo di quello che può offrire, non parlo solo della RAL, dello stipendio mensile che è una componente importante, ma anche di altre componenti, il tema è far tornare attrattiva questo tipo di professione e qui c'è la sfida per tutte le imprese di settore che riguarda evidentemente quello di parlare alle generazioni e far capire che c'è un'attività che può essere interessante ma dall'altra parte capire come la si può rendere ancora attrattiva e interessante rispetto a quelle che possono essere altre opzioni. Questo è il tema vero, alcune aziende hanno dovuto tagliare servizi perché mancavano gli autisti. Allora, il nostro è un settore particolare che pochi conoscono, in realtà è una grande industria, un'industria italiana che anche in termini di PIL ha una sua rappresentanza importante. Ci dai una mano a ricordare alcuni dati che possono aiutare chi ci ascolta a capire quanto vasto sia e quanto complesso sia questo mondo della mobilità? Sì, come dicevi è sicuramente un'industria molto molto importante in termini di numeri e in termini di funzione che svolge. Allora, in termini di volumi sono 12 miliardi di euro di fatturato, quindi un numero molto importante e che consente di muoversi e di fare quello che le persone devono fare a 15 milioni di persone ogni giorno. Il numero di imprese è rilevante, oltre 900. Il dibattito qui è se il settore dovrebbe andare nella direzione di consolidare le presenze e quindi crescere come scala e dimensione delle imprese, piuttosto che no, ed è un dibattito che evidentemente ha i suoi pro e i suoi contro. Dall'altra parte ci sono oltre 120 mila persone che lavorano in questo settore. Quindi sicuramente un settore industriale in termini di servizi e di rilevanza per l'organizzazione della vita sociale ed economica molto molto importante. Allora, parliamo di FNMA che opera in questo settore, su gomma, svolge un ruolo fondamentale per fornire servizi di mobilità sicuri ed efficienti in questa regione. Intanto dove siamo presenti? Sì, allora, Ferroviario Minato Servizi che è la società storica del gruppo che fa trasporto su gomma, è una delle aziende perché complessivamente il gruppo è presente attraverso FNMA Autoservizi, attraverso Attivi Verona e anche attraverso la partecipazione per quanto di minoranza all'interno di un'altra realtà importante in Lombardia che è SF di Como. Autoservizi, appunto, la presenza tradizionale. Allora questa azienda è presente in tre province, che sono le province di Brescia, Varese e Como e opera 19 linee in queste province. Di fatto è un trasporto exturbano e quindi già questo meriterebbe, diciamo, poi un'attenzione particolare perché il trasporto pubblico su gomma si divide nettamente fra quello che è il servizio in ambito urbano, che ha certe caratteristiche, e il servizio in ambito exturbano. La domanda è completamente differente, l'organizzazione del servizio è completamente differente, la sfida che ha di fronte un'azienda come Autoservizi, così come altre aziende che fanno questa stessa attività, cioè operano linee che sono linee extraurbane, è quella di non, la dico così, ridursi a un mero servizio scolastico e quindi di non essere un servizio utilizzato nelle ore di punta tipiche della mattina e del rientro a metà giornata, ma invece riacquisti peso. Questo richiede, quello che dicevamo anche all'origine, di ripensare in qualche modo l'organizzazione delle reti e l'organizzazione del servizio. FNMA oggi ha quasi 160 autobus, quindi è un numero significativo e, diciamo, questi autobus circolano su una rete di circa 750 km. Per quanto riguarda l'innovazione, ora da una parte c'è quello che dicevamo prima in termini, diciamo, di rinnovo della flotta e di adeguamento della flotta, con i dati che abbiamo regolato in precedenza anche su scala nazionale. L'altro tema molto rilevante in Lombardia, lo è anche in altre regioni d'Italia, ma in Lombardia sicuramente, è quello dello sviluppo del sistema di bigliettazione elettronica. È un progetto che è iniziato, si è avviato, diciamo, qualche anno fa. Il progetto prevede che ci sia su scala regionale un sistema totalmente integrato, con un centro di servizi regionale e poi con la presenza di quelli che sono centri periferici sostanzialmente riconducibili alle agenzie e ai capoluoghi. L'Ambardia ha investito un'importante mole di risorse, circa 30 milioni di euro, per realizzare questo sistema. Oggi questo sistema è sostanzialmente nella fase finale di implementazione. Diciamo che anche i sistemi periferici saranno gli ultimi pronti a metà 2024. Questo è uno degli elementi che fa fare il salto di qualità al sistema, perché è quello che si chiama sistema Carbase e quindi funziona sulla base di un supporto, che è la tessera, sulla quale si caricano i biglietti, gli abbonamenti. Questo si può fare ovviamente anche su device di tipo digitale. C'è una rete molto ramificata di rilevatori e di punti di passaggio e questo consente una esperienza di viaggio sicuramente più facile. Poi da qui c'è l'evoluzione ulteriore, che per la verità in alcuni territori si sta già sperimentando, che è quella del digital nel senso proprio, ma questo apre un capitolo molto importante, molto rilevante e un po' più complicato. C'è un'altra società del gruppo che hai citato poco fa, impegnata nel trasporto su gomma, si tratta di ATV, in realtà molto importante, che però opera fuori regione. Ci descrivi qualche numero? Sì, allora ATV è una società dove il gruppo partecipa assieme a quello che è il sistema regniente locale di questo territorio. È un'azienda molto importante, che ha numeri molto importanti. È vero, è fuori regione. In realtà però Verona, dal punto di vista delle connessioni, quindi un concetto che abbiamo già toccato anche in altre conversazioni, cioè il fatto che i confini amministrativi non definiscono effettivamente i flussi di mobilità, le esigenze di mobilità. La connessione Verona-Milano è rilevantissima e il fatto che ci sia questa connessione, poi un'azienda che fa un servizio di trasporto pubblico, diciamo orientato a quelli che sono tendenzialmente i commutes e i pendolari, ma che ha un servizio molto importante per quello che è Verona, per il lago di Garda, per le attrazioni di tipo turistico. Quindi è una realtà molto importante. Qui parliamo di numeri significativi, una flotta che è di oltre 540 autobus e più di 100 linee che vengono gestite. Quindi con un numero significativo di passeggeri, perché l'azienda opera dentro un bacino che è di tipo urbano, di tipo exturbano e che riguarda circa un milione e mezzo di abitanti. Quindi stiamo parlando di una realtà paragonabile con Milano. Adesso fate i debiti e proporzioni. C'è anche un'attenzione particolare di ATV sul tema della sostenibilità. Per esempio l'avvio in esercizio di una piccola flotta iniziale di bus totalmente elettrici. Sì, allora, appunto, questa è una delle sfide più impegnative del settore. Ora, ATV parte da una sua tradizione storica, una cultura che la posizionano già molto bene, perché oltre al 30% della flotta è una flotta a metano. Quindi la scelta di ATV di dotarsi di mezzi che fossero più green e più compatibili con il tema della sostenibilità data da lungo tempo. Poi, per esempio, quello che è successo ha portato anche al fatto che ATV negli anni precedenti è stata penalizzata da quel forte incremento dei costi che c'è stato a metano. Quindi poi qui le scelte evidentemente pesano in maniera diversa. Su questa base storica di scelta in struttura della flotta, ATV adesso sta aggiungendo quello che è il rinnovamento della flotta con una scelta di autobus elettrici. Come ricordavi ne sono appena stati, diciamo, messi a servizio 11 e c'è, diciamo, un programma a breve che ne prevede circa 30 di mezzi elettrici. È chiaro che questo è il primo passo per integrare accanto al metano un diverso vettore che è quello appunto elettrico, che è quello che meglio si adatta in particolare agli ambiti urbani. È un programma che prevede nei prossimi tre anni di avere il 75% della flotta, diciamo, rinnovato in termini di energia pulita e di soluzioni green. Allora, grazie Marco. Ricordo a chi ci ascolta che tu sei il direttore generale di FNM. Ricordo anche che è possibile dialogare con noi su questi e altri temi utilizzando un indirizzo mail che poi è il mio, luca.montani-fnmgroup.it. Oggi abbiamo parlato di trasporto su gomma, siamo all'interno di un bus di nuova generazione, un ultimo arrivo. Partiamo da qui per raggiungere la prossima meta. Alla prossima!